La lingua è importante e le lingue mi piacciono molto, è proprio come cosa in sé. La lingua che uso per un racconto, cerco di usarla allo stesso modo per il racconto a fumenti. Spesso molte parole del giapponese moderno, mi riferisco di più allo slang giovanile ad esempio, nascono dal fumetto. Attraverso i dialoghi, attraverso i gesti, i loro movimenti, i personaggi si muovono da sé. Una cosa che mi aiuta molto è scrivermi le cose che dicono le persone. Per fare fumetti non è indispensabile saper disegnare bene, bisogna saper raccontare con quel linguaggio. Cercare di dire quella cosa con la parola giusta e meno altre parole possibili. Ci sono certe cose che funzionano molto di più a fumetti. Dipende dal lettore, quella la figata del fumetto.